Buonasera dal Torneo Orcobaleno, la seconda giornata si apre con questa partita entusiasmante tra Loding e Atletico Pisau. Qua il migliore in campo Toscano, un altro migliore in campo Mirabella. Due splendide prestazioni le vostre, Toscano, cominciamo con te. Tre gol, di cui l'ultimo vale pure il gol vittoria, un'ottima prestazione, però avete sofferto parecchio. Sì, è stata una partita molto combattuta, siamo riusciti a portare a casa il risultato, con grande grinda tutti quanti, veramente bravi. Mirabella, andiamo da te, la tua prestazione è eccellente, forse ancora meglio della prima partita. Potevamo fare di più, ringrazio la squadra, ci abbiamo fatta, potevamo giocare meglio perché siamo stati sotto attacco degli avversari, ma comunque una bella partita l'abbiamo fatta, la prossima sarà meglio. Con questi tre gol il tuo obiettivo è anche la marca autoria, oltre a vincere il torneo, oppure ti fermi qua? Ma vediamo, andando pensiamo alla prossima, poi si vede. Per te invece quella è la soddisfazione, avere la migliore difesa, o almeno ambisce a questo oppure altro? La migliore difesa è arrivare entro le prime, il vittorio del torneo, ma la vedo un po' lunga, dai. Va bene, la soddisfazione dei due migliori in campo, a te Toscano e il premio come match player, comunque dal torneo al Copaleno è tutto e ringraziamo ancora i due rappresentanti dei Lodi.